Allora abbiamo parlato di Turbo Certificate ma non sono solo Turbo Certificate o certificati a leva che portate sul mercato italiano, da qualche anno avete sempre più arricchito la gamma dell'investment certificate sul mercato delle soluzioni che prevedono il pagamento di eBay maxi premi con l'obiettivo di andare a recuperare minusvalenze certo direi che avete scelto andiamo a vederlo anche proprio lo strumento penso a un memory cash collector preciso quello sul banco dpm su Leonardo e Mediobank e Tenaris avete preso dei titoli interessanti con un timing molto interessante anche perché poi non bisogna dimenticare che gli italiani hanno nella generalità dei casi maturato l'anno scorso minusvalenze su tutti i fronti sul fronte obbligazionario e su quello azionario quindi alzi la mano chi non ha minusvalenze da recuperare si purtroppo molti investitori credo abbiano diverse minusvalenze poi spalmate magari su più anni però sicuramente l'anno scorso è stato un anno molto difficile per l'investitore quindi sicuramente mediamente ci sono tante minusvalenze negli zainetti fiscali e i certificati come come sai benissimo hanno questo vantaggio fiscale di permettere la compensazione delle minus quindi una qualsiasi plusvalenza su un certificato di qualsiasi tipo permette di compensare le minus nello zainetto quindi appunto non si va a pagare la tassazione normale del 26 per cento se si ha una minusvalenza nello zainetto perché si va a compensare e il maxi coupon appunto il maxi cash collect è probabilmente lo strumento più adatto a questo tipo di operatività nel senso che appunto pagando un maxi premio iniziale molto corposo in questo caso questo prodotto che state facendo vedere un maxi premio del 15 per cento quindi di 15 euro pagato a luglio si va subito a diciamo ridurre quello che è appunto l'importo delle minusvalenze nello zainetto come detto bene tu sono più ecco ne vedremo di più verso la fine dell'anno di maxi cash collect da parte nostra ma ovviamente anche da parte di tutti gli emittenti italiani perché a dicembre appunto scadono le minusvalenze generata generate nei quattro anni quattro anni fa quindi verso dicembre gli emittenti tipicamente cercano di metterne di più per dare la possibilità di compensare le minusvalenze in scadenza e poi eventualmente di prolungarle avanti nel tempo abbiamo però deciso comunque circa un mese fa se non sbaglio questa emissione di dare la possibilità agli investitori di iniziare con più calma a programmare appunto una gestione delle minus in scadenza appunto quest'anno quindi sai che volevo chiederti proprio questo Gino perché al di là di fondo ve l'ho visto che anche altri emittenti sono usciti nelle scorse settimane con dei maxi cash collect volevo capire deve essere una cosa di settore nel senso qual è la sensibilità che vi ha portato ad aumentare fuori dal periodo standard tipicamente quel periodo settembre novembre dove vediamo gli emittenti portare sul mercato maxi coupon vi è proprio una richiesta da parte dei consulenti finanziari degli investitori gli siete resi conto che vi è un ingente gamma di minus da recuperare perché poi infatti se io ho maxi coupon sparo e investo 10.000 me ne arrivano subito 1500 di ritorno posso riutilizzare questi 1500 su un'altra emissione successiva di maxi coupon e fare una sorta di compounding positivo da un punto di vista fiscale ecco è questa la ratio si riccardo innanzitutto abbiamo ricevuto qualche richiesta da consulenti finanziari che ogni tanto appunto ci chiamano quindi con cui ogni tanto parliamo ma anche da parte di investitori è stata come detto una cosa generalizzata sul mercato diversi emittenti 4 5 emittenti hanno già emesso diverse soluzioni è una cosa che tipicamente si fa a prescidere nel senso che anche negli anni passati abbiamo visto emissioni con maxi coupon giugno luglio settembre quindi è abbastanza tipico va detto ecco probabilmente l'anno prossimo ne vedremo anche di più considerando che ci saranno la scadenza delle minusvalenze generate nel 2020 che magari ecco anche quello un anno particolare per per gli investitori quindi probabilmente l'anno prossimo ne vedremo ancora di più di emissioni di questo tipo sempre appunto con maxi coupon già a partire da giugno luglio quello che hai detto è sicuramente un utilizzo molto astuto ecco del maxi del maxi cash collect quindi comprarne uno aspettare l'incasso del maxi cash collect se si hanno tante minusvalenze in scadenza quest'anno non basta un singolo maxi coupon si può incassare questa questa maxi cedo a compensare vendere certi fatti e poi magari ecco andare su altri maxi cash collect per continuare questo processo di ottimizzazione fiscale di compensazione delle delle minus nell'azianetto abbiamo fatto questo ragionamento riccardo ma come l'hanno fatto anche gli altri emittenti perché poi va detto una cosa il maxi coupon non nasce solo per questo dopo lo stacco del maxi diventa molto spesso proprio perché c'è il calo del prezzo dovuto allo stacco della cedola diventa un prodotto comunque interessante da portafoglio se si riesce a strutturare ecco qua io allora mi leggo a un prodotto che avete portato sul finire dell'anno scorso andiamo a vederlo memory cash collect stellantis stm tenaris unicredit qua il codice ISIN vi ricordo che potete sempre copiarlo molto facilmente cliccando qui però ecco prezzo denaro lettera che sicuramente sotto la pari perché la pari è 100 qua vediamo un 92,40 94,40 bacchettata sulle mani da dare ai trader con uno spread bidask così elevato onestamente lo segnalerò subito lo segnalerò subito però ecco data di valutazione iniziale l'11 del 10 a 100 arriva anche a 105 stacco del cedolone molto elevato si torna qui e vedete la volatilità comunque che vi è perché uno investitore molto attivo su uno strumento del genere beh ha avuto in più occasioni l'opportunità fa l'opportunità di fare buoni deal sì esatto questo si è come innanzitutto si vede immediatamente dal grafico lo stacco del maxi coupon ma poi appunto c'è stato un movimento non indifferente anche anche dopo e come dicevo prima un investitore che non ha minusvalenze non è interessato all'incasso della maxi cedola magari può tenere sott'occhio il prodotto tra l'altro questo qui anche effetto quindi anche la barriera la barriera di protezione e un buffer ulteriore nel caso in cui la barriera venga rotta quindi ulteriormente difensivo magari un investitore può aspettare lo stacco del maxi cash collect se non è interessato a quella caratteristica e si ritrova il prodotto intorno ai 90 88 euro quindi il rendimento poi effettivo sale questo qui paga cedole bimestrali una volta in due mesi dell'un per cento quindi se guardiamo soltanto alle cedole successive al al maxi parliamo di un 6 per cento sul nominale di 100 euro se lo compra 88 quindi subito dopo lo stacco lo compra adesso quindi su 94 il rendimento poi effettivo sale quindi diventa un prodotto da portafoglio un prodotto che un investitore anche che se non è interessato allo stacco del al pagamento del maxi premio voglio dare di inserire in portafoglio questo considera riccardo ad oggi il rendimento anno circa di un otto e virgola qualcosa per cento quindi comunque un rendimento non da buttare e questo rendimento sarà che salirà ancora lunedì perché lunedì per esempio stellanti se stacca il dividendo ordinario e se tanto mi da tanto il prezzo del certificato scenderà così da far incrementare anche il rendimento si c'è anche la questione dello stacco va detto comunque il certificato legge già da prima quello che poi l'eventuale stacco di dividendi durante la vita del certificato dei sottostanti quindi non è che ci sarà lo scalino di da un giorno all'altro però si c'è la possibilità magari di comprarlo a un prezzo comunque leggermente più basso se si compra se si compra più avanti e quindi si massimizza anche si diciamo ottimizza quello che è il timing e si massimizza quello che è il rendimento rendimento potenziale considerando sempre che si parla di prodotti ideali per un contesto anche di lateralità magari potrebbero pensare investitori siamo in un momento particolare col fuzzimib su una resistenza importante non credo che possa salire ulteriormente che sottostanti possa salire ulteriormente ma anche se lateralizzano scendono leggermente io con un certificato incasso i premi porto a casa scadenza un rendimento positivo anche se sottostanti scendono leggermente e da oggi questo certificato se non sbaglio il peggior titolo è circa a una distanza dalla barriera di circa 34 35 per cento quindi fino a ulteriori discese di questo importo del 35 per cento io comunque ogni mese per ogni due mesi in questo caso prendo la cedola se ho minus comunque me le va a compensare e a scadenza magari ottengo rendimento anche uno scenario moderatamente ribassista ecco giusto per vorrei ricordare che i dividendi non permettono di recuperare con lo stato attuale delle cose le minusvalenze di con lo stato attuale delle cose perché il governo sta studiando una soluzione per permettere anche ai dividendi di andare a recuperare le minusvalenze ma finché non ci abbiamo nero su bianco in gazzetta ufficiale non lo diciamo maxi cash collect prima abbiamo visto un'alternativa adesso vorrei vedere quell'altra che vede come sottostanti è nella intesa san paolo stm e unicredit qui vediamo una prezzo di una lettera 99 100 anche qui l'emissione fresca 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 perché date di valutazione iniziale il 30 di marzo primo giorno in negoziazione san riccardo 3 di aprile 2023 partiamo quelli che sono anche i valori di riferimento quanto stacca questo di maxi coupon questo maxi premio del 15 per cento come anche il primo che hai fatto vedere riccardo della stessa emissione quindi 15 per cento di maxi di maxi premio e successivamente un 2 per cento trimestrale quindi se consideriamo poi le cedole dopo la maxi iniziale un 8 per cento 8 per cento anno sempre appunto rapportato al nominale in questo caso però ovviamente il prodotto quota 100 quindi è quello rendimento da considerare in entrambi i casi quindi si apre il maxi che per le cedole dopo soia bonus quindi il livello sopra il quale devono stare titoli per pagare il premio al 60 per cento barriera anche a scadenza osservata solo a scadenza al 60 per cento e poi una cosa importante questo magari ci tengo a segnalarlo la possibilità di rimborso anticipato da dicembre 2023 c'è un però ovvero la data di pagamento di questa del possibile rimborso anticipato non ricade a dicembre ma ricade nei primi giorni di gennaio 2024 quindi chi compra questo certificato se ha una modalità di compensazione applicata dall'intermediario cosiddetta chiusura è necessario prima di compensare le minus che la posizione venga chiusa quindi anche se incasso il maxi ma tengo il certificato in portafoglio non vedrò compensate le minus fino a che il certificato non scade rimborsa o decido di venderlo soltanto a quel punto avrò la compensazione delle minus purtroppo per una questione di pochi giorni se compro il certificato e ho una compensazione a chiusura aspetto il rimborso anticipato rimborsa anticipatamente il credo 27 dicembre 2023 il pagamento purtroppo scala a gennaio 24 quindi non ci sarebbe non sarebbe appunto efficace per la compensazione delle minus in scadenza quest'anno questa è una precisazione per chi ha intermediari che applicano la compensazione a chiusura per chi ha intermediari che applicano la compensazione immediata che è più diffusa non c'è problema ogni volta che si incassa il premio immediatamente si compensano le minusvalenze grazie 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 grazie